Sono stati raggiunti da provvedimento di custodia cautelare in carcere e dai domiciliari tre catanesi, autori nel maggio dello scorso anno del saccheggio nel ristorante Tiramisudita Ormina, devono rispondere dell'accusa di furto aggravato in concorso e tentata estorsione. Le indagini che hanno chiuso il cerchio, portando all'individuazione di Alfio Petralia, 48 anni, Antonino Nicosia, 26 anni, entrambi di Biancavilla, e Salvatore Sant'Angelo, 39 anni, residente ad Adrano, sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Taormina, coordinante dalla procura di Messina. È stato accertato che i tre, col volto coperto da passamontagna, avevano fatto irruzione locale, danneggiando sia il lucchetto che il sistema di videosorveglianza, per poi portarsi via circa 200 bottiglie di vino pregiato, per un valore complessivo di oltre 40.000 euro. Un'irruzione violenta, la vetrina posta a protezione dei vini, completamente in frantumi, il sistema d'allarme, sradicato dal muro e lanciato per essere annullato all'interno di un bidone contenente dell'acqua. Il locale, completamente messo a soquadro e quasi distrutto. I tre, poi successivamente, non avevano esitato a minacciare il proprietario, chiedendogli un riscatto per avere indietro intatta tutta l'area furtiva. La nota formula del cavallo di ritorno, che in questo caso colpiva uno dei settori tipici della cittadina ionica, la ristorazione di qualità. Le indagini sono scattate grazie alla denuncia della vittima, che non si è piegata al gioco, ma ha avuto il coraggio di raccontare ogni cosa. Pedralia, Nicosia e Sant'Angelo sono stati ripresi dalle immagini di videosorveglianza. Le ordinanze di custodia cautelare emesse al Tribunale di Messina sono state eseguite questa mattina dai carabinieri di Taormina, con l'ausilio dei colleghi di Paternò.